Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Feri ASMR grazie per aver scelto questo video rilassante oggi voglio provare a farvi addormentare o comunque a farvi rilassare con una tipologia di video che è piuttosto famosa al di fuori dell'ambito ASMR ma che si vede poco spesso nel nostro mondo io in particolare ho preso l'ispirazione dal canale di Ninfea ASMR che saluto già Ninfea si tratta, come avrete letto dal titolo, di un video svuota alla spesa quindi un video in cui sostanzialmente vi mostro la mia spesa spero di potervi rilassare grazie alla mia voce che sarà per tutta la durata del video con questo tono sussurrato quindi in whispering e grazie anche al suono dei vari oggetti che andrò a mostrarvi io vi ricordo solo di indossare le cuffie e di distendervi in un posto comodo per godervi appieno l'esperienza di questo ASMR rilassante per il resto se l'idea del video vi piace lasciate un pollicino in su e se non siete ancora iscritti al canale fatelo cliccando naturalmente la campanellina per non perdere i prossimi video rilassanti detto questo, iniziamo sono stata al supermercato e ho fatto una spesa di circa 30€ se non sbaglio adesso vi mostrerò tutti i prodotti che ho acquistato tanto spero che voi vi stiate rilassando primo prodotto, gallette di farro da agricoltura teologica queste mi piacciono moltissimo per la merenda e quando ho fame ma non c'è niente del mio frigo della mia dispensa sono buone sia accompagnate con un formaggio sbalmabile sia da sole in realtà sia per la colazione se vi piace con il miele a me piace moltissimo e queste non mi ricordo quanto costano però mi sembra circa vediamo un po' se lo riesco a ritrovare 1,19€ quindi molto economiche poi ho preso delle mini banane sono molto molto gustose e hanno un sapore diverso rispetto alle banane normali e queste le ho pagate 2,24€ le appoggio qui questo succo di frutta 100% succo di mela senza zuccheri aggiunti infatti gli ingredienti sono solo succo di mela e acido ascorbico come antiossidante volevo provare a vedere se facesse un suono particolare ma forse più carino è la suona del tappo e quanto l'ho pagato questo? vediamo se lo trovo succo di mela 100% 99 centesimi ottimo ho preso i famosissimi ormai per chi mi segue su Instagram o anche per chi segue le mie live subito biscotti zero zuccheri cioco chips questi ragazzi sono buonissimi non so come sia possibile che siano così dolci ma sono veramente spettacolari somigliano un po' ai cookies però sono più spessi e i cookies quelli classici insomma con le gocce di cioccolato sono più spessi e non lo so il sapore ricorda proprio tanto quello delle gocciole però gli ingredienti sono farina di frumento gocce di cioccolato senza zuccheri fatte con la pasta di cacao il maltitolo il burro di cacao l'emulsionante l'ecitina di soia il cacao in polvere l'aroma e l'aroma naturale di vaniglia poi l'olio vegetale di girasole liatul coloranti quindi moltitolo e isomalto agenti lievitanti sale e aromi cioè fantastico io questi li adoro e bellissima consiglio soprattutto se siete magari in un momento in cui state facendo più attenzione alla vostra alimentazione ma vi va di concedervi uno sfizio magari per colazione a questi li ho pagati diamo un po' biscotti 1,19 euro fatemi sapere se li trovate e se sì se vi piacciono altro sfizio che ho comprato per la merenda è questo mix dolce e salato quindi un mix di noccioline mandorle e frutta secca all'interno si è appunto arachidi e frutta secca uva sultanina la frutta secca è zuccherata quindi questo può essere solo uno sfizio da concedere se mi è tanto però il pacchetto fa un bel suono forse è un po' forte e questo l'ho pagato se non sbaglio 99 centesimi no 1,39 euro mi sbagliavo poi ho preso delle more queste da mettere nello yogurt bianco sempre per la colazione semplici more che ho pagato 2,49 euro fatemi sapere se anche voi comprate lo yogurt bianco e ci aggiungete qualche frutto tipo mirtilli more lamponi io lo faccio molto spesso è veramente una buona colazione per me andiamo avanti un po' alla rinfusa e troviamo questo struccante micellare del nuvance che trovo molto valido io di solito utilizzo gli struccanti bifasici meglio se biologici però da quando ho fatto la laminazione alle ciglia per conservare un po' più a lungo il risultato mi è stato consigliato di non utilizzare struccanti oleosi e quindi ho ripiegato su un'acqua micellare e questa è davvero buona perché non brucia gli occhi e dietro c'è scritto l'interazione quotidiana divenne preziosa e rilassante grazie a questa scuola si fa congelare formulata per un pericolificare l'interno di trucco importante grazie per ieri dell'ipidica la presenza di strato di allogio biologico di attraverso l'interno di velocità di ricordare come ti sapete con giusti oltre con ieri con ieri ma con l'importante azione di ricchezza di regole impronte per un'età per un'età per un'età per un'età e sì ve la consiglio non so se l'avete mai provata non lo so la trovo buona se però avete da consigliarmi un'altra acqua micellare che sia molto valida scrivetemelo qui sotto perché mi interessa moltissimo e ovviamente sono sempre aperta a scoprire nuovi prodotti poi andando avanti ho preso ah ecco questa bustina come potrete vedere ci sono tre peperoni uno giallo uno rosso e uno un po' verde e un po' giallo a me piacciono i peperoni verdi non so invece quali siano i vostri preferiti però ditemi se sapete la differenza che cosa cambia resterà una part up anche sui peperoni che ne dite però fanno un bel suono forse perché sono vuoti all'interno non vi ho detto il prezzo dell'acqua micellare che è rotti vediamo struccante 2 euro e 59 i peperoni invece peperoni 1 euro poi ho acquistato a 62 centesimi una mela granata che devo sbrigarmi a mangiare perché è già molto matura questa la mangerò stasera e infine una bevanda a base di farro che io utilizzo come latte al posto del latte vaccino bio bib farro vediamo un po' quali sono gli ingredienti mi pare che non contacca il zucchero però acqua grano farro 15% olio di semi di girasole sale marino d'agricoltura biologica prodotto a lunga conservazione ok solo questo ci sta ha un buon gusto tra i vari tipi di latte che ho assaggiato questo è uno dei migliori secondo me sempre da accompagnare ovviamente con qualcosa di buono per la colazione ecco vediamo se questo fa qualche suono ma poco però il tappo sempre ci regala soddisfazioni e questo l'ho pagato 2 euro e 19 bene ragazzi la mia spesa è finita ringrazio ovviamente ciascuno di voi per essere arrivato fin qui se il video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un like e un pensiero felice proprio qui sotto mi raccomando leggete la descrizione sempre e fatemi sapere il prodotto a cui non potete proprio rinunciare quando fate la spesa spero che il video sia stato rilassante e noi come al solito ci vediamo se vi va nel prossimo video bacini fatosi ciao ciao